buongiorno dagli studi di abitivo news oggi 6 marzo e santa rosa da viterbo tra le tante giornate internazionali che si festeggiano quella del 6 marzo un'importanza particolare in questa data infatti che si festeggia la giornata dei giusti dell'umanità una celebrazione che punta a ricordare coloro che nel tempo si sono dedicati a salvare il prossimo sia fisicamente che battendosi per vedere riconosciuti determinati diritti a persone oppresse e minoranze il 10 maggio 2012 deputati di strasburgo hanno accolto l'appello di garibu sottoscritto da numerosi cittadini ed esponenti nel mondo della cultura istituendo la giornata europea dei giusti il 6 marzo data della scomparsa dell'artefice del viale dei giusti moshe besky la giornata dei giusti e solennità civile in italia ogni anno 6 marzo si celebra l'esempio dei giusti del passato e del presente per diffondere i valori della responsabilità della tolleranza e nella solidarietà grazie a tutti grazie a tutti